Per fare la differenza serve un'ottima differenziata, un mantra di marche multiservizi che correda a pennello i risultati esposti oggi nella nona edizione del report annuale dell'azienda. Un dato spicca su tutti. Nelle 2021 il riciclo complessivo dei rifiuti che tiene conto di materiali differenziati e indifferenziati è arrivato al 58% superando con 4 anni di anticipo l'obiettivo fissato dall'Unione Europea del 55% per il 2025. Credo siano motivi d'orgoglio non solo per l'azienda, per noi, per tutti quelli che lavorano, ma anche per i soci e per i cittadini. Insomma fanno fatica, si impegnano nella raccolta differenziata, nel corretto conferimento e questo ha dei risultati. Quindi quello più importante è questo, è quello di aver raggiunto gli obiettivi europei. Non solo traguardi, anche qualità. Nel 2021 la raccolta differenziata del territorio servito da marche multiservizi si attesta infatti al 73,5%. È stato recuperato il 93% del verde raccolto, è stato riciclato il 92% della carta, il 91% dell'organico, il 92% di metalli e vetro, il 95% del ferro e addirittura il 100% del legno. Per quanto riguarda la plastica è stato recuperato il 53%, confermando che si tratta del materiale più complesso da gestire con un'azione efficace. Dal particolare al generale, rispetto all'86% della raccolta differenziata avviata a recupero, l'84% è stato riciclato, mentre il 2% è stato convertito in energia. Risultati frutto di strategie che vengono da lontano. Sul tema dei rifiuti ci siamo posti fin dall'inizio il tema della sostenibilità in un modo serio, concreto. A volte siamo stati attaccati perché i nostri risultati miglioravano però non in modo eclatante, però in modo costante. Non siamo mai stati di quelli che hanno fatto le performance dal 50% all'80%, ma abbiamo avuto una costante gradualità di incremento della raccolta differenziata, quindi in un modo statico e costruttivo. Abbiamo puntato molto sul tema della sensibilizzazione ai cittadini, agli stakeholder, in modo tale da creare sempre di più un certo tipo di consapevolezza e di sensibilità sul tema ambientale. Questo ci ha portato dei grossi risultati. Sulla strategia abbiamo avuto modo di sperimentare e dimostrare che il nostro modello misto di prossimità e raccolta domiciliare solo di differenziato è un modello che comunque è vincente, sia dal punto di vista del contenimento dei costi per i cittadini, sia dal punto di vista della raccolta differenziata in termini percentuali. Buoni risultati, ma non ci si vuole fermare. Il tasso di riciclo degli imballaggi si attesta al 62% e guarda già all'obiettivo del 65% fissato da Bruxelles per il 2025. Dobbiamo differenziare meglio, perché anche da questo punto di vista siamo sopra gli obiettivi europei, insomma siamo quasi al 74%, quindi si può fare di più da questo punto di vista, ma si può anche differenziare meglio, perché poi c'è un 30% di rifiuto differenziato che può essere a sua volta ancora di più raccolto, per cui invitiamo a fare un salto di qualità ai cittadini e alle famiglie da questo punto di vista, quindi essere ancora più attenti sui materiali, come vanno conferiti, come vanno riciclati. Un riciclo di qualità che non ha benefici solo ambientali, ma anche nelle bollette degli utenti. Il recupero, il riutilizzo, il riciclo dei materiali raccolti è importantissimo dal punto di vista della sostenibilità, ma ovviamente questo produce anche un riscontro economico per le bollette, spesso non c'è la corretta percezione da parte delle famiglie di qual è questo tipo di recupero. Noi nel report l'abbiamo quantificato, è quasi 30 euro a famiglia, quindi a bolletta, che più o meno indicativamente è circa un 12% di quello che è il costo della bolletta, per cui c'è un riscontro effettivo su le buone pratiche che le famiglie mettono in campo.